Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. Fino all'8 gennaio il Museo Bilotti all'Arancera di Villa Borghese ospita la mostra Piacere Ettore Scola, un viaggio nella vita privata e professionale del grande cineasta da poco scomparso. Infine, ultimo appuntamento domani alle 20 al Cinema Savoy del MedFilm Festival, un evento nato per promuovere il cinema mediterraneo ed europeo attraverso film, audiovisivi e docufilm. Come sempre 060606 o comune.roma.it